Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Jurassic World The Game Allora quest'oggi abbiamo da fare un evento Io volevo farvi accorgere del Deinonico che è messo qua per 6.390 punti fedeltà Non conviene la pena Comunque pacchetto misterioso Perfetto E iniziamo con gli eventi Allora ragazzi oggi abbiamo Quanto notato assalto anfibio Questo qua Ristala la realtà e scuoti la terra Mi secca fare scuoti la terra E poi la verità Poi non vinci mai Facciamo assalto anfibio Allora serve un anfibio Ok Ah ci sono pure i mod Io questa me la potrei giocare benissimo senza mod Cosa c'ha? Ok no? Ok questo non gli serve Ok Beh in pratica aumentano sempre i punti salute Posso giocarmela benissimo senza mod Ah un mod serve E allora facciamo così Con casualità il problema non c'è Perché almeno non gli devo decidere io i mod Sprezzare un sacco di tempo Allora vediamo Allora casualità Furto Gli rubo il mod Che Vitalità mille E sopportazione Mamma mia Allora poi cosa abbiamo Di nuovo un furto Vabbè Però è andato un po' sfiga È andato un po' sfiga Vabbè Va bene Va bene Va bene Niente di che Aspetta ma no Aspetta lui che cosa c'aveva Clonazione Bellissimo Bello clonazione Non l'avevo capito che avevo No Per un colpo Vabbè Ma è bellissimo clonazione 6400 Non lo ammazzo neppure lui Quattro attacchi Devo attaccare Teoricamente dovrei aumentarmi La vita Ho 7452 Mamma mia Quanta vita Ho C'è di 3 Meno di attacco Vabbè Me li posso anche togliere Per 7 Per avere 7000 Di vita Cioè Ma è pazzesco 1 2 3 4 E 5 Mi sa che lui Mi muore No Avevo apparato 1 Non me ne ero Completamente accorto 4 attacchi Cioè Se mi attacca 4 Lui non mi uccide Ma è pazzesco Ok Morto Vediamo Vediamo Allora Erio No Proteogirinius Allora 4600 Di vita Dovrei avere No 3800 Perché ne ho perso un po' E un sacco di attacco Allora 6 attacchia Mi dovrebbe avanzare con 3-4 Quindi Bene Tutti gli attacchi Vinto Haccio anche sopportazione Che dovrebbe aumentare la vita Andiamo Perché già ne ho poca di mio Quindi Ebbè Non tanto meglio Però Tanto lo uccido adesso Quindi Vabbè Comunque Primo stage Superato A me Quello che mi preoccupa Beh questo con un solo mod Andato anche bene Mi preoccupa dopo Terzo stage Che è Amfibi per te Per 3 Sì Beh diciamo che Quella è la mia Preoccupazione Allora abbiamo Amfibi per 2 Acantostega Mastodontosauro E Metaposauro Direi Che gli uso Sappiamo Allora Cosa abbiamo Nullificazione Ispirazione No Io odio Ispirazione È troppo forte Allora Uno da Vabbè Un anfibio Ora Tappe c'è lo cefalo E l'anfibio con più vita Che posso avere Diplosuco Direi Che gli posso mettere Scheggia Mi sembra un po' troppo Contrattacco Potrebbe essere carino Rigenerazione Pure Furto Sanguinamento Predazione Vai Ho sbagliato Predazione Perfetto Perfetto Con predazione Mi spacco Perché avrò L'attacco A 3600 Immagino Dai Vediamo Se carica Il gioco Aspe Ok Allora Lui c'ha Ispirazione Che è una bestia Aumenta di un sacco L'attacco E di un sacco La vita Ma Poi abbiamo No Vabbè Che schifo Ruba il mod Della creatura avversaria Uso singolo Ma che schifo Ma che schifo Ma dai C'era Con un'unificazione Mi annullerà L'effetto Di quello E non servirà Niente Il fatto Che Mi sono Messo Ti riesco Allora Facile Così La vita Quanto potrebbe fare Un Vabbè 1300 3 attacchi Devo attaccarlo Tac Muori A quanto stega Ora 670 Tanti danni Ma comunque Sopravviverei 3215 Questi Sì Che sono Bei danni Allora Devo Parare Aspetta No No Ragazzi C'è un pericolo 2500 No Questo Mi ammazza Devo parare Minimo Due Non ce la posso Fare Quello Mi ammazza Perché Almeno 1000 Di attacco Ce li ha Speriamo Allora Devo cambiare In lui E mettere Da parte 3 Vediamo 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 Come va Vediamo 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 Intanto Ha 5 Attacchi Vediamo Vediamo Come va 5 attacchi Li attacca Tutti E 5 E io Ora Ne ho 7 Con 7 Lo attacco 1 Lo attacco 1 Paro Paro E metto 3 Da parte E ho Vinto Se già Questa era Difficile Immagina Il prossimo Stage 1280 Ah no 900 Ok Però Mi togli Predazione Smart Sei Ah no Mi rimane Ma ce l'hai pure Tu Ok Vabbè Allora Non è così Grande Ok Sei morto Metaposauro Con 7 Attacchi Di spacco In paradiso Vai a finire Addio Anzi All'inferno Allora Finito anche questo stage Manca l'ultimo E poi ricompense D'oro Allora 60 di genoma Prendiamo Anfibi per 3 Mamma mia Quanto sono grossi Abbiamo No Quali mod potrebbero Svantaggiare i nemici Conviene mettere un sacrificio Sì Così ho il sacrificio Da più punti Poi mettiamo Lui e lui Allora Se lui sostituisce I miei mod I mod della tua squadra Con i mod della squadra Avversaria Quali mod Quali potrebbero Essere inutili a loro Allora No Legame no Legame no Loro Mi hanno dato Vitalità E alfa Io devo ragionare Quale mod Potrebbe essere inutile Il nemico Allora Ferita Condivisa No No Meglio di no Ferita No Diversivo No Vitalità Sopportazione Raduno E carica Aumentare l'attacco No Meglio di no Gli avrei messo L'unificazione Però non ne ho manco uno Che fine non fa Tutti i miei L'unificazione Potrei fare Una cosa Buono Lo so Gli copio i mod Trovate Oppure non li metto E basta Allora ragazzi È una situazione Caotica Però posso fare Così come E poi così E così Allora Ho trovato Metto Solo a lui Carica Anzi No 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 Ancora meglio Meglio la pitta O l'attacco Vitalità Ok Vai Dovrebbe andare Così Perché tanto Non hanno Cioè Teoricamente Loro non dovrebbero Ero mod E io dovrebbero Avere solo Sto vitalità Inutile Vediamo se Ha funzionato Ok Alfa Se ho sbagliato Mi sparo Perché non ci ho capito Niente Poi Specchio Gli rimangono Gli effetti Non so No Ancora peggio Di quanto Io avevo pensato Sono un cretino Cosmico Ci scambiano Gli effetti Quindi avevo avuto Doppia vitalità Sì Sono un cretino Cosmico Detto bene No Mamma mia Perché devo fare Il cretino Perché Perché Metto tre Da parte Mamma mia L'avessi io Tutta quella vita Se sapevo Gli mettevo Qualcosa di meglio I miei Allora tre Due attacchi da mille Mi puoi tirare Forse Duemila Cinque Tremila Massimo Tanto c'ho gli altri Quindi va bene Vai Muore caprosuco Ora abbiamo Pryono suco Quattro attacchi Ah ok Due attacchi Bene E quindi Ho uno Due Tre E' morto E' morto E' morto E' morto Perfetto Ultimo Mentre io rinco Quattro attacchi Vediamo cosa fa Se attacca o parerà O farà qualcos'altro Non fa niente E' morto per forza Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Perfetto Allora ragazzi Prendiamo la bustina E poi vediamo Cosa possiamo fare Allora Vediamo Vediamo Ricompense d'oro Monete Un sacco di genoma Una statua di almond E un'itio stega Totalmente inutile E 650 punti Fidelità Allora ragazzi Io vi ricordo Che ci fermiamo Ci fermiamo così Vi ricordo Di iscrivervi al canale Di commentare Di condividete Di Ma non mi ricordo Che Lo potevo fare Di iscrivervi al canale Di condividere Di attivare la campanella Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao E di mettere l'hashtag Belgioco Per ricevere il cuoricino E di attivare il cuoricino